L'Europa senza gas russo morirà, a dirlo è il ministro dell'energia del Qatar. Qatar che secondo i piani dell'Unione Europea diventerà uno dei più grandi fornitori di gas in forma liquefatta, liquida, appunto del vecchio continente. Andiamo a leggere la forma scritta, l'articolo dell'intervista video fatta da Becky Henderson sulla CNN proprio al Catariota. Che cosa dice il ministro e altri ospiti legati, esperti, capi delle ditte pubbliche energetiche proprio del Qatar, Medio Orientali? Rimpiazzare il gas russo in questi anni, in questo decennio è praticamente impossibile. L'Europa non può sopravvivere energeticamente con l'enorme domanda che ha, parliamo di circa mezzo miliardo di abitanti, non può farcela completamente senza, tagliando subito le forniture di gas e petrolio dalla Russia. Intorno all'80% del gas Catariota va oggi in Asia, soprattutto in India e Cina, che non hanno dei programmi, tra virgolette, verdi come l'Unione Europea, Green New Deal, per andare a salvaguardare teoricamente l'ambiente, ammazzando l'economia, tagliando del tutto il consumo, l'import di idrocarburi. La Russia, continua il ministro, è la più grande, come si può dire, produttore alle riserve di gas più importanti al mondo, quasi il doppio del Qatar in totale. Gli Stati Uniti saranno sicuramente il più grande fornitore, guardate caso, gli Stati Uniti di Biden, il più grande fornitore di gas, di idrocarburi all'Europa. Gas sempre liquefatto, quindi le navi lo portano dall'America, dal Nord America. Questo inquina tantissimo e poi degli impianti apposta trasformano il gas liquefatto in gas vaporizzato da utilizzare nell'industria a livello domestico. Quindi molto più costoso in bolletta per noi, molto più un grande affare per gli Stati Uniti in Europa. Secondo anche il Catariota, spostare il gas liquido dal Qatar potrebbe essere una soluzione per l'Europa se l'Europa è pronta a pagare molto di più le forniture dal Medio Oriente, dice il ministro. E chi ha le più grandi infrastrutture adatte a ricevere nei porti, quindi deve avere uno sbocco sul mare in Europa, all'Ungheria, come fa per esempio non avendo il mare? Ditemelo voi. Chi ce le ha le più grandi infrastrutture marittime? Portuali, la Spagna e il Regno Unito. Le altre pagheranno ancora di più. Draghi intanto a Bruxelles, Italia è in grado di assorbire la quota di gas dagli Stati Uniti, ha parlato con Biden, grandi amici. Oggi abbiamo in funzione tre rigassificatori, quelle strutture di prima che vi ho raccontato. La disposizione del ministro Cingolani alla Snam è ora di acquistare altri due rigassificatori galleggianti in mare e chi paga, paga il cittadino. La bolletta aumenterà a dismisura sicuramente nei prossimi mesi, nella prossima invernata, autunno. Intanto, a proposito di Stati Uniti, che guadagnerebbero economicamente e commercialmente grazie alle nuove forniture all'Europa, grazie alla rottura dell'Europa con la Russia, Putin è un macellaio, dice tranquillamente così, a Varsavia, in visita a Varsavia l'altro giorno, lo sapete tutti. L'Ucraina è in prima linea nella battaglia per la libertà. Vi leggo alcune citazioni che secondo me sono più importanti. Siamo con il popolo ucraino. Proprio lui che in Ucraina col figlio aveva, o ha forse ancora oggi, degli affari con Burisma, la ditta energetica. Fate un po' voi. La colpa è solo di Vladimir Putin. Questo uomo non può restare al potere. Immaginate una frase simile, detta a parti invertite, dalla Russia, da Putin, da Lavrov, da chi che sia, al Cremlino, contro gli Stati Uniti o contro l'Italia. Si sarebbe scatenato un putiferio. Come sempre, doppio standard. Un dittatore che cerca di ricostruire un impero. Questo già lo aveva detto. La risposta del Cremlino, ovviamente, perché la Russia risponde, non è che sta lì e, come si può dire, incassa i colpi. Nuovi insulti restringono ulteriormente la finestra d'opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti. Ovviamente i rapporti diplomatici, la diplomazia va a farsi benedire. Biden ha invitato a bombardare la Jugoslavia e uccidere le persone. Sapete tutti di Milošević, del Slobodan Milošević, sapete tutti della Bosnia, di Belgrado, il bombardamento di Belgrado nel 99. Ve l'ho raccontato molte volte. La Casa Bianca ha precisato che Biden non stava parlando di un cambio di regime in Russia. Cioè la Casa Bianca che cerca di mettere delle pezze alle sparate, letteralmente sparate, del presidente Biden democratico. Ora, se volete sostenere l'informazione indipendente, potete farlo tramite i link in descrizione. Paypal e Bonifico Bancario. Ringrazio di cuore per le donazioni che non hanno in sé dei messaggi, quindi non posso leggerli. Però potete mandarmi dei messaggi che leggerò nei video successivi. Ringrazio Leonardo Antonia e Francesco per le donazioni. Kadirov, c'è la risposta anche del sanguinario leader ceceno. E voi mi direte, perché leggi ci racconti di Kadirov? Perché io cerco di dare tutte le prospettive. Il commento lo lascio a voi. Voi dovete farvi una idea critica, non teoria critica marxista. Idea critica, una capacità critica di leggere la realtà in maniera più oggettiva possibile. Anche se l'oggettività non esiste neanche nell'informazione. Dice Kadirov, perché voi, resto del mondo, vi inchinate, vi arrendete a Biden, al ridicolo Biden? Andiamo a leggere alcuni passaggi. Voi, soprattutto all'Occidente, all'Europa. Voi, nazioni sviluppate, democrazie che vi sentite moralmente più alte. Perché continuate a mettere gli interessi delle vostre nazioni, delle vostre terre, delle vostre patrie, sotto agli interessi degli Stati Uniti? Quindi, nelle ultime settimane ho letto, dice Kadirov, delle sparate, delle frasi idiote e ridicole da parte del Presidente americano. Sicuramente succederanno cose peggiori di quella di scambiare la First Lady per la Vice Presidente o di scambiare gli iraniani con gli ucraini all'interno della Casa Bianca, all'oscuro, al segreto rispetto allo sguardo indiscreto delle telecamere. È una persona completamente pazza, dice Kadirov. Pensate bene agli interessi vostri, delle vostre nazioni, ai prezzi della benzina, del petrolio, del gas e ai prezzi che aumenteranno sicuramente a dismisura e uccideranno i vostri interessi economici, le vostre economie, le vostre famiglie. Biden, dice sempre Kadirov, il ceceno è un criminale di guerra che da anni copre i crimini del Pentagono. Questo è un virgolettato suo. Salvate le vostre nazioni. Ora uno potrebbe dire il bue che disse Cornuto all'asino. Fate voi, fatevi un'idea. Andiamo avanti perché Zelensky torna in televisione tramite la solita forma video a attaccare l'Occidente, a fare degli appelli, diciamo meglio così. Tutte le nazioni dovrebbero avere delle armi nucleari, degli arsenali nucleari per potersi difendere dalle invasioni, dalle aggressioni estere come quella che stiamo subendo noi in Ucraina da parte della Russia, di Putin. Bisogna difendere gli interessi, l'ordine internazionale mondiale e quindi la pace. Il nuovo ordine mondiale qualcuno potrebbe dire. Kirodo Pontu, Zelensky questa mattina torna a chiedere caccia, torna a chiedere armi, torna a chiedere blindati all'Occidente, alla Nato. Vedete anche il tweet con il video. Se l'Ucraina, i partner dell'Ucraina, quindi l'Occidente, non ci aiuteranno per niente come non hanno fatto a livello militare poco o nulla, dice lui, nei primi 31 giorni allora ci sarà un forte rischio, un enorme rischio che l'esercito russo attaccherà e aggredirà militarmente anche Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania oppure le Repubbliche Baltiche quindi una sorta di quasi minaccia potremmo dire o forse solo un appello. Sta a voi il giudizio. Queste cose non aiutano alla diplomazia, alla pace e scongiurare il pericolo di una guerra mondiale nucleare. Un ex comandante dell'esercito polaco che vedete in foto, che cosa ha detto, mi sembra in una televisione che la Polonia deve riprendersi l'esclave russa di Kaliningrad che sta tra la Lituania e la Polonia e guarda sul Baltico. Lascio a voi ogni commento. Tra l'altro Kaliningrad che è stata soprattutto, come scrivono alcuni tedeschi su internet, Königsberg è quindi tedesca. Telex, quindi non solo polacca o russa. Telex, giornali sinistra ungherese, neoliberale. L'ambasciatrice polacca in Ungheria, Budapest, torna ad attaccare Orban, il governo ungherese. Non vogliamo che il confine ucraino-ungherese diventi il confine russo-ungherese. Yubov-Nepop che in passato, negli scorsi giorni, aveva parlato di una strategia, quella di Orban, della calma strategica, strategia governativa. Lei aveva detto, solo nella tomba, la calma strategica c'è solo nella tomba e quindi dopo la morte. Poi aveva parlato del 1956, tralasciando il fatto che nei carri armati nel 1956 avrebbero potuto esserci, ci saranno stati anche sicuramente degli ucraini in quanto quella era Unione Sovietica. Secondo, nel 1956, per non far scoppiare la terza guerra mondiale, gli americani, l'Occidente, non è intervenuto direttamente con gli eserciti, tralasciando il fatto che l'Ungheria non è stata salvata, alcuni maliziosi dicono, dall'America, perché l'Ungheria non ha mai avuto risorse naturali come petrolio e gas, a differenza dell'Ucraina. Ecco tutto l'interesse, forse spiegato, lo dicono i maliziosi. Tutti gli ungheresi, dice l'ambasciatrice, sono sicura che tutti gli ungheresi sono pronti, si dicono pronti a pagare bollette più salate, il gas, il petrolio, prezzi molto più alti per salvaguardare la democrazia e la libertà. Questo lo dice lei. Risponde questa mattina a Kosciut Radio, la radio pubblica, il primo ministro ungherese, Orban Viktor, che adesso sta passando di nuovo come cattivone agli occhi anche del governo polacco addirittura e cieco. Gli ucraini vorrebbero fermare, bloccare l'economia ungherese. Qui il discorso, dice il primo ministro ungherese, non è che bisogna pagare di più il gas e farlo arrivare dalla Russia di meno. Il punto, il dubbio è tra fornitura o non fornitura, cioè ci sarà gas o non ci sarà del tutto, ci sarà petrolio o non ci sarà per niente. Poi gli interessi ucraini, dice Orban, è che più paesi possibile entrino in guerra, mentre noi non vogliamo, lo ripeto un'altra volta, entrare in guerra. Ora ci sono le elezioni fra poco in Ungheria, il 3 aprile. Il ministro della giustizia, Vorgo Judit, come vedete su Facebook, ha rilasciato, pubblicato un video in cui si parla di come queste elezioni ungheresi hanno un significato importantissimo a livello simbolico per tutta l'Europa e parla anche di come sia di fatto una scelta continentale, degli equilibri continentali, anche rispetto alle relazioni con la Russia di Putin. E poi c'è anche tutta quella questione della libertà d'espressione, tutta quella questione del pensiero unico globalista che domina i governi, soprattutto dell'Ovest, del continente, dell'Unione Europea. Al prossimo segmento tra Italia e Modio Rorsal.